Siamo con Edoardo Vergani per commentare questo pareggio che non può far fare salti di gioia ai tifosi. Sì, sì, no, dispiace per il pareggio, soprattutto perché abbiamo visto poi i risultati anche delle altre partite. È stata una partita un po' complicata sia per il campo sia per gli avversari che comunque si sono chiusi dietro, era difficile trovare gli spazi. Sì, di buono però portiamo a casa che comunque non abbiamo subito gol e quindi almeno un punto lo portiamo a casa. Edoardo è arrivato questo pareggio con l'ultimo in classifica. A proposito di campo, ci si era lamentati molto del campo di Viterbo nella partita col Monterosi, però su quel campo oggi la Viterbese ha battuto il Catanzaro. Sì, vabbè, non ci riguarda questo, però spesso troviamo questi tipi di campo e è difficile poi portare a casa il punteggio pieno e adesso non vogliamo trovare l'alibi e pensiamo già alla prossima. Perché questo Pescara è così diverso da quello con il Potenza, secondo te? Appunto per quello che gli ho detto prima, secondo me l'Andrea si è chiusa dietro, abbiamo fatto fatica a trovare spazi e comunque pochi tiri in porta, qualcosina in più nel secondo tempo magari quando abbiamo giocato un po' più offensivi, però niente, solamente questo penso io. Una diretta domanda a Colombo qualche minuto fa su come aveva giudicato la tua prova, ha detto ottima prova di Vergani. Sì, sì, sono contento, sto trovando più spazio e sono contento di ripagare il mister. Stai trovando più spazio, diciamo, resta fuori spesso in queste ultime settimane, al di là di quello che è accaduto nelle settimane precedenti Lescano. Molti invocano il ritorno di Lescano dal primo minuto. Tu, indirettamente, come vivi queste voci quando senti che molti vorrebbero Lescano dal primo minuto? Tu cosa pensi? Ma no, ma io devo stare concentrato su me stesso, non devo pensare alle parole fuori, poi chi lo sa magari si potrà pure giocare insieme. Ecco, hai anticipato un po' la mia domanda, insomma, potrebbe questa squadra, ma anche con questo modulo, ma anche cambiando con un altro modulo, vedere giocare dall'inizio Vergani e Lescano insieme? Io penso di sì, poi non lo so, sono decisioni del mister, però oggi per esempio abbiamo fatto una mezz'oretta insieme, quindi perché no? Edoardo, per chiudere, nel primo tempo sei stato protagonista di un'azione che poi ha portato alla tua ammunizione, si è visto dalla tribuna una mezza gomitata o comunque un'entrata un po' scordinata, lì hai rischiato anche il cartellino rosso. Non so se ricordi l'azione. Ma la devo ancora rivedere, io a me lì per lì non mi sembrava nemmeno fallo, quindi adesso l'andrò a rivedere. Per chiudere, domenica col Giuliano, bisogna tornare a vincere, soprattutto a convincere, perché diceva anche Colombo, questa squadra deve avere continuità di risultati e di prestazioni. Oggi non c'è stata continuità né sul piano del risultato, ma neanche su quello della prestazione dopo Potenza. Sì, sicuramente, però è comunque un passo in avanti rispetto a prima, perché comunque almeno un punto lo porti a casa, anche se ci sta stretto, però confronta prima che facciamo fatica anche a portare a casa un punto.